Vi voglio bene, ho pensato di farvi una sorpresa. La sorpresa di questa sera è qua con noi e si chiama Shura Ornella che oggi è passata a trovarmi e quindi mi fa davvero un grande piacere che si sia fermata qualche minuto. Allora, lo diciamo subito, non c'è il cruciverba, giusto? Non c'è, non ce l'ho, non l'ho preparato, ho fatto... Odiamine, però parliamo in dialetto. Parliamo un po' in dialetto, parliamo un po' di cavolate. È un regalo che questa sera vi ho voluto fare, amici di Ciao Como, perché, ripeto, doveva esserci un ospite politico, non c'è. Non sono io, non mi sono candidata, non ho pagato per fare... Ciao Shura, intanto un saluto. Ciao a tutti. Quindi non c'è il cruciverba, però lo diciamo subito, lo facciamo da settimana prossima. Settimana prossima, riprendiamo il cruciverba. Ma intanto salutiamo tutti i nostri amici e ascoltatori, ascoltatrici che sono con noi, che magari si aspettavano ovviamente un politico, un appello finale al voto. No, c'è la sua... Sì, l'appello finale al voto, nel senso, andate a votare perché è giusto, è il nostro diritto andare a votare, poi ognuno fa quello che vuole. Sai che ti stavo guardando? Eh? Che io e te, tu hai tagliato i capelli e adesso siamo quasi uguali. Sì, ho tagliato i capelli, ho fatto una sistemazione, una sistemazione... Sì, ho visto, c'è tutto un bel... Non ti vedono gli ascoltatori. Eh, infatti... Allora, salutiamo, visto che oggi sono... Saluti, saluti. Allora, sorpresa di questo 10 di febbraio, sorpresona, abbiamo la Shurornella che oggi è qui a trovarci al posto del politico di turno. E quindi, bene, grazie. Sì, no, volevo salutare una simpatica... Ah, sì, brava, mi stai dicendo. Come no? Oggi mi è capitata una cosa simpaticissima, sono andata a fare una visita in Valduce e all'ambulatorio c'era una infermiera che mi ha accolto e mi ha detto Ma, ma lei è la signora, è la signora che va in giro con il Marco Romualdi. Mi fa la signora, la signora Bruna. No, gli ho detto non mi chiamo Bruna, mi chiamo Ornella. Ecco, sì, la signora Ornella che va in giro con il Marco Romualdi. Allora, saluto Francesca. Francesca, cos'è, infermiera? Sì, è l'infermiera che c'è all'ambulatorio dell'ospedale Valduce. Allora, cara Francesca, un saluto. E grazie perché sono stata onorata, mi ha riconosciuto. Ha sbagliato il nome ma non fa niente. E però mi ha fatto sentire in quel momento importante. Bene, allora, meglio la sciurornella dei politici, si scrive Loretta. Sono d'accordo, Loretta. Loretta però non ha il cruciverbo. Loretta, siccome sei incazzata perché non l'ho mai salutata in questi giorni, ma io giuro mi ha sfuggito sinceramente e quindi chiedo scusa. Lo fa spesso, a volte mi trovo a scrivere con il buongiorno e proprio non mi caga neanche. E allora vedi che, non lo faccio apposta, ciao Sandra e un saluto a Marinella e a tutti i nostri amici e ascoltatori. Vi abbiamo fatto, vi ho fatto questa sera una sorpresa. Ti saluta anche Clara e anche Daniele, il tuo presidente. Ah, grazie Daniele. È una sorpresa, è una sorpresa, Daniele, è una sorpresa. Doveva esserci questa sera, anzi lo diciamo chi doveva esserci. L'onorevole Fede. No, non è ancora onorevole. Doveva esserci il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, che per impegni non ha potuto, sta chiudendo la campagna elettorale. E allora io ho detto Ornella, va Ornella, va, fa una bella cosa. Vescia chi a fangiret che stiamo insieme. Esattamente. Ciao anche da Katia che ci saluta. E allora questa sera... Oh, e le chiacchiere, che buone le chiacchiere. Le chiacchiere da mangiare di carnevale. Cosa che stai dicendo? Eh, perché se Andrea fa di ciacciar, mi sono venute in mente le chiacchiere di carnevale. Ah, ok, 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 perfetto. Un saluto anche a Silvana che ti saluta. Sono tanti quelli che sono rimasti sorpresi. E devo dire che rispetto a quando ci sono i politici, ci sono tantissimi, il triplo, il quadruplo degli ascoltatori. Devo dire che effettivamente è un saluto anche da Stefano. Bene, 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 bene. Allora, visto che sei venuta... Parliamo anche di Sanremo? Certo. Allora, mi dici la tua classifica, che ti è piaciuto, che cosa... Dimmi, dimmi. Allora, naturalmente mica sto alzata fino alla una e mezza a sentire Sanremo, non ce la faccio. Ne ho sentite un po', beh, io adoro Marco Mengoni, mi spiace. Ah, già, è vero, sì, 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 ricordo. Tu lo sai che io lo adoro. Sfondi una porta aperta, sì, sì. E quindi spero che vinca lui, però mi piace. Devo dirti che a volte faccio fatica a capire le parole delle canzoni, ma deve essere l'audio di Sanremo. perché, soprattutto quando c'è il rap, queste musiche un po' particolari, io non capisco quello che dicono. Poi magari le senti per radio e dici, ah, ma adesso si capiscono bene. Allora, ti salutano Loretta, ah, già, si l'abbiamo già detto, Marilena da Gravedona, sempre Solare, Ruggero, e poi ti saluta anche Sandra. Oh, ragazzi, stanno crescendo i capelli. E Lara, ti saluta. Ciao Lara, buonasera anche a te. Allora, mi è venuto in mente, per parlare di dialetto, e parlo io, che ti dico, te saluta che io parlo. Io sto zitto, io sto zitto. Ho trovato a casa questo bel libro, mettilo su. Qua, 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 per te, aspetta un attimo. Allora, il libro è questo, posso lasciarmelo un attimo? Eh beh, dopo devo ritrovare il segno. Certo, certo. Allora, di Orazio Sala, Sadiseva Ishi. Prego. Allora, è un libro del 94, che è stato distribuito dalla famiglia Comasca ai soci nel Natale del 94. Ma è simpatico, perché ci sono i nostri modi di dire e da dove derivano. E mi è piaciuto, perché sono andata a cercare una cosa che poi, va bene, non ho trovata, ma ne ho trovati altri. Tipo, tipo. Noi diciamo, ale ciuc, cum è minin. È ubriaco, come... È minin. Minin. Allora, volevo capire che cos'era minin. Cos'è che lei è minin? Però, passiamo a un attimo prima, abbiamo scoperto che in dialetto non c'è superlativo. Cioè, uno non dice che è ubriachissimo. Ciucca. Quindi non c'è ciucchissimo. No, è sempre, oppure, qui fa anche altri esempi, dice, bianc come un lat. È talmente bianco che è bianco come il lat. Ma non è, non esiste il bianchissimo. Non esiste, qua dice, ciar come il su, chiarissimo. Ah, ok, 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 ok. Non c'è. Non lo sapevo. Bisogna mettere vicino, chiaro come, un aggettivo come. Allora, sono andata a leggere la storia e dire, come mai, che cos'è il minin? Allora, qui dice, a proposito, il minin è il gattino appena nato e il suo incedere ricorda appunto quello dell'ubriaco. Certo, 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 certo. Quindi, alle ciucch come minin. Abbiamo scoperto anche che... Marilena ha scritto una mina, no, 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 è il gattino, è il gattino, Marilena. Minin è un gattino. Allora, a Gravedona si dice, set, ciuc, come è la mina. Come è la mina. Esatto. E poi ci scrive anche Guido, ciao Guido, e come si dice, sì, poi è Donatella, anche lei, insomma, tanti altri. Sandra, Rogero. Ci sono tante cose che noi diciamo, ad esempio, qua parla sempre per andare avanti con gli animali, dice un ratin, il ratin è il piccolo topo, no? E ne abbiamo tanti, perché dice, si può essere svelte men rat, ma anche vunch come un rat, content men rat, na ciappa più de rat, anche content come rat, felice come un topo, come fa a essere un topo felice, non lo so. Allora, Saliseva in sci, il libro di Orazio Sala, è un grandissimo storico del dialetto, io con lui ho fatto anche tante trasmissioni, bravissimo, davvero, colto, sempre molto fine, anche nei suoi modi di dire, grande davvero Orazio. Ce n'è veramente, ci sono veramente tanti, ad esempio c'è, na ciappa più de rat, nanca qui piturai sul mur, oppure, le una ratera, per dire che è una cosa sporca, porratin, povero piccolino, povero topolino, porratin, si dice, la fa la fin del rat, anche questo noi diciamo spesso. Ok. Oppure, ah, questo è molto bello, questo proverbio, le mei un rat imbuca il gat, che un om immana la ucat. Certo che sì, certo che sì. Oppure, via la gata balani rat, e pepe un rat de dent e la cua de feu. Cioè, ci sono tanti modi di dire che non ce ne rendiamo conto anche utilizzando solo una parola, in questo caso il rat, ma ce ne sono tanti, come ad esempio questo qua con il pane. Anche con il pane ce ne sono tanti. Cioè, l'ammettù pane e acqua, l'è buon come il pane, tirasfera un pane di buca, al gat tirasfera un pane di mangià, pane e saliva, un pane di altar che il gas su se cruste un crustin. Cioè, ci sono veramente, con un solo vocabolo, il nostro dialetto, la possibilità di costruire tante frasi che rendono molto l'idea di quello che vogliamo dire. Proprio così, cara. Dario, saluto anche a te. Poi c'è il nostro amico Guido, che dice una cosa che... Te la metto lì. Mettimela lì. Dammi una tua valutazione. Ci saluta anche Silvia. Ciao Silvia, buonasera. E Guido dice, sarebbe bello Ornella e Davide Vandesfros in un duo in dialetto di chiacchiere. Guarda che è una bella idea. Adesso bisogna, il problema è convincere Davide a venire. Sì, anche perché lui è famoso, io no, quindi va bene. Lascia stare sta cosa qua. Sentire Davide e convincere Davide che potrebbe essere una bellissima cosa. Lei è una pampos, ci scrive Rosina. Esatto, bravissimo, un pampos. Ciao Rosina, un saluto anche a te. Bene, bene, bene. Allora, io provo, con le conoscenze che ho, a vedere se Davide un giorno, ma chissà, potrebbe anche essere, me lo auguro, perché Davide mi sarebbe bellissimo. Oltre che la cosa che... Bella sorpresa, eh, Lori, quella di Ornella stasera. Eh, non ci sono politici. Dicevo, la seconda sorpresa che mi piacerebbe fare, Ornella, e tu sei concorde con me, è avere una sera, quando sarà possibile, te e la signora del dialetto di Germasino. E lì sarebbe fantastico. Averti qua, come si chiama? Non mi ricordo più. Angela! Angela, sì. Angela, la sciura Angela, del dialetto di Germasino. Ci sono tante cose da... Eh, sarebbe fantastico. Qua, come, chissà, magari non riusciremo magari a ritornare. A uscire, andiamo a Germasino, eh. Andiamo a Germasino, volentierissimo. Dai. A proposito di Van de Sproos, mi è capitato, ho avuto la fortuna, di essere stata contattata da una ragazza che doveva fare la tesi. Ah, brava, brava, spiegano. E aveva scelto come tesi il dialetto comasco. E lei pensava che Van de Sproos avesse comunque, parlasse il dialetto comasco. Eh, questa ragazza è dalle parti di Lecco, quindi non è della nostra zona. Gli ho detto che effettivamente non è così perché lui è del lago e quindi usa un altro tipo di dialetto. Di mezzegra. Esatto, di mezzegra. Esatto, metà lago, quindi. Ehm, allora abbiamo tradotto, tra virgolette, un paio di canzoni di Van de Sproos, cercando anche dei vocaboli e io dando il nostro modo di leggere anche il dialetto, di pronunciare il dialetto rispetto a lui, perché lui poi lo scrive in una maniera e di conseguenza una volta scritto noi lo leggiamo in maniera diversa. Certo. Ci sono dei vocaboli che sinceramente io non conosco perché sono vocaboli, Germasino vabbè, è un paese a parte, però ci sono vocaboli che vengono utilizzati solo in un determinato. È vero. Sarebbe bello. Bene, bene, bene. Doviamo prepararla perché io non ho messo la stessa. Sì, abbi pazienza, abbi pazienza. Allora, nel frattempo, appunto, sarebbe una bellissima idea come scrive Graziella. Eh, sono d'accordo Graziella, dammi l'idea, dammi spazio e tempo che magari riusciamo a metterlo a posto questa cosa qui. Te, Desfroso, lui che canta e te che reciti poesie. Sarebbe fantastico, facciamo, facciamo, facciamo un botto. Una serata. Una seratona. Eh, va bene. Allora, quindi, tanti cari saluti ancora a chi ci sta scrivendo. Sorpresi di aver trovato questa sera al posto dell'appello finale dei politici la sciurornella. I politici sono finiti praticamente tra poche ore, no, nel senso sono finiti perché tra poche ore chiude la campagna elettorale. Questa sera doveva esserci appunto il presidente Fermi non ha potuto. Per ragioni sue personali e quindi ovviamente niente. Noi abbiamo ovviato così. In prima fila ci sarò io, dice Guido. Bene, poi può cantare anche la sciurornella. Certo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ma sicuramente, sicuramente sì. Mi è venuto in mente, mi so che abbiamo parlato del Pampos, ma diciamo ai nostri ascoltatori. C'era quella filastrocca, no? Ah, sì, bravo. L'avevi fatta una volta con me. Il Pampos, Pan Freschi, Induina, che è le pro, P, questo. Esatto. Eh, a proposito di Pampos, ricordiamole, cioè se ve le ricordate dai tempi dei vostri genitori, dei vostri nonni, ricordatele anche ai più giovani. Giusto. Perché sono, anche queste sono delle tradizioni che vanno, purtroppo il nostro dialetto. Poi, allora c'è Lori che dice che sei meglio dei politici, ma questo l'ha detto anche Loretta, che poi ti dice se riesce a dire la Pim Pim Cavalin. Pim Pim Cavalin, sul tarpedia, c'è la team, Pampos, Pan Freschi, Induvina, che le pro, P, questo. Ornella, e no, aspetta, chi... Isa, com'è che la va, Shura? Com'è che la va? Eh, la va che la va, con tutti e due i gambe. Ah, ok. Con tutti e due i gambe. Va bene, va bene. Allora, vedremo un po', se riusciamo a fare questa cosa, questa idea che ci ha lanciato Guido, se non sbaglio, se non sbaglio. Sì, Guido, questa reunion, diciamo così, tra Ornella e Davide Vandesfrosse, oppure Ornella e la Shura Angela di Germasino, il che sarebbe davvero tanta roba fantasticissima, davvero. Ma anche se ci sono altri personaggi che magari noi non conosciamo, lontani, perché no, andiamo a visitarli e possiamo fare... Ornella e George Clooney, voglio dire, per dire. Quello sì, ma quello il dialetto non lo conosce. Va bene, va bene, glielo insegni tu. Perché una cosa importante da dire del nostro dialetto, cari ascoltatori, è che il dialetto era una lingua parlata, cioè non esisteva uno scritto del nostro dialetto. È vero. Era la lingua che veniva parlata, diciamo dal popolo, ma veniva parlata anche dai signori e quindi non esisteva uno scritto, non esisteva un vocabolario, non esisteva una grammatica, sono tutte cose che sono arrivate successivamente. Quindi è una cosa che noi dobbiamo trasmettere oralmente. Persone, oralmente, dobbiamo farlo, ricordiamoci. Allora, noi siamo arrivati alla fine. Sì, ce l'abbiamo fatta anche senza... Ce l'abbiamo fatta anche senza... Allora, la settimana prossima torna il Cruciverba. Ho sentore che mi sembra che è martedì, però c'è un appuntamento con qualcuno. Vabbè, vedremo. Allora, ci sarà un appuntamento fisso il martedì o mercoledì, con la Sciura Ornella, alle 18, lo facciamo, giusto? Eh, per forza. Alle 18. Perché alle 8 e mezza la gente va a lavorare. Quindi, allora, da settimana prossima, o il martedì o il mercoledì, avremo un appuntamento fisso, con la Sciura Ornella, del Cruciverba. E poi, quando le temperature... Perché non ci sono più i politici. E poi, quando le temperature saranno meno rigide, visto che stamattina c'era meno 9 al Bassone... Era veramente freddo. Eh, verrò ancora con te al mattino. E andiamo a scoprire qualcosa di diverso. Wow, non vedo l'ora. Sono contento, ti aspetto. Allora, un saluto, allora, anche da... Da. Da. La gente che veramente... Isa dice, con Fedez e Chiara Ferragni, non so, non so che cosa possano dire loro in dialetto, però, vabbè, potrebbe essere... E poi... Andrò, allora, tra una ventina d'anni mi vedrete a Sanremo. Ti saluto anche Dolores. E poi, tanti cari saluti a voi. Lo so, Clara, che lo sai bene anche te il dialetto. Lo so, lo so, lo sappiamo che lo sai bene, ma sicuramente... E poi, cosa dire... Ti salutiamo tutti e coloro che questa sera, a sorpresa, si sono ritrovati la nostra super Sciura Ornella per farci compagnia, davvero. Ah, perché vanno a Pugnana e vogliono lezioni di dialetto. Dubito, fortemente, però vediamo. Fedez e Chiara Ferragni. Magari se dovessero chiederci. Chissà, vabbè, vediamo, 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 vediamo un po'. Le invitiamo anche in radio qualche volta. Ma certamente, se vogliono venire. Settimana prossima, allora, torna il super cruciverba con la Sciura Ornella. Ripeto, non mi ricordo se è martedì o mercoledì. Comunque, segnatevi voi, seguiteci al martedì o il mercoledì sera e troverete sicuramente la Sciura. E poi, andremo avanti ancora per i prossimi mesi, perché ho visto che in queste settimane molti mi hanno scritto eh, però, i politici, eh, 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 però la Sciura. Eh, lo so, ho capito, però. C'erano le elezioni, dovevamo fare... Poi i politici si mangiava anche, mangiavate anche, quindi... Tra l'altro abbiamo campato anche di quello. Dovevamo fare comunque le elezioni, fare anche delle informazioni. Adesso sono finite, domenica e lunedì c'è il voto, quindi poi vedremo chi sarà eletto, ma i politici per il momento allora hanno finito il loro... Pensa, lunedì sapremo chi sarà eletto, chi ha vinto Sanremo. Sì, esatto. Poi le partite di calcio... Esatto, tutto a caso. Mamma mia, lunedì sarà... Allora, saluta i nostri ascoltatori, cara Sciura... Ciao ragazzi, ragazzi, eh, di qualsiasi età, ragazzi tutti. Ragazzi, ragazze, insomma, tutti quelli che ci hanno seguito questa sera. A sorpresa, Ornella è venuta qua io, quindi vi ho fatto una bella sorpresa. Sono felice che avete apprezzato, ma non avevo dubbi al riguardo. Grazie Sciura di essere passata. Grazie a te, Devinito. Ci vediamo settimana prossima. Ci vediamo settimana prossima. Allora, guarda la 1, guarda la 1. Ci vediamo settimana prossima. Eh sì, ma devo essere pronto io a cambiare. Allora, questa è la 1, ok? Ok. Adesso andiamo sulla 2? Ok. Aspettiamo un momento. Eh, va bene, purgerà. Ma vai in dissolvenza, no? Eh, vado in dissolvenza, però dammi il tempo di farla di dissolvenza. Vai sulla 3? Ah, c'è anche la 3. Certo, esatto, esattamente. Piccolo. Esatto. Ci vediamo settimana prossima. Adesso torniamo sulla 1 per chiudere. Ciao. Ok, perfetto. Grazie Sciura davvero. Ciao a tutti. Della tua grande simpatia. Ciao a tutti. Grazie, buon fine settimana. Ciao a tutti.